Giancarlo Favarin è il nuovo allenatore del Follonica Gavorrano. Allo stadio Aldo Nicoletti presentazione ufficiale alla presenza del presidente Paolo Balloni, del suo vice Lorenzo Manzi, del direttore sportivo Filippo Vedrini e dell'ingegner Luigi Manzi. Il tecnico pisano torna dunque sulla panchina che nel 2018, dopo essere subentrato a Bonuccelli con un Gavorrano in grosse difficoltà, lo vide protagonista di una grande rimonta nella seconda parte di campionato, sfiorando una clamorosa salvezza. Favarin non ha mai nascosto il suo attaccamento a questa società, da qui con il suo ritorno la possibilità di finire il lavoro iniziato due anni fa. Sono soddisfatto di essere tornato a Gavorrano e è chiaro che purtroppo la cosciente retrocessione di due anni fa è rimasta praticamente sul gozzo, come si suol dire. Sono tornato qua anche appunto con l'intenzione di, con la società, di poter risalire prima possibile. Quando non si può dire, però mi interessa che cominciamo a essere già competitivi e poi con un po' di fortuna, insomma, sperare di salire il prima possibile. Da quel 2018 molte cose sono cambiate. C'è stata la fusione tra Follonica e Gavorrano, il Covid-19 che ha messo in ginocchio tutto il mondo, compreso ovviamente quello sportivo e calcistico, e un Follonica-Gavorrano che fino a quando si è giocato è andato decisamente al di sotto di quelle che erano le aspettative societarie. Innanzitutto dobbiamo metterci alle spalle un'annata che purtroppo non è andata come si pensava, perché è inutile stare lì a girare il coltello nella piaga. Annate che purtroppo possono capitare a tutti. È chiaro che in questo momento il primo pensiero va alla società, perché come si sta vedendo sta facendo di tutto per mettere a norma l'impianto qui bellissimo di Follonica. Il loro obiettivo è chiaramente di poter fare uno stadio per la Serie C, quindi l'obiettivo è sempre quello di arrivare più in alto possibile. È normale che l'annata dell'anno scorso deve essere da traino, perché tutti abbiamo bisogno di un riscatto e chiaramente i giocatori riconfermati, chi dello staff, la società ha voglia di ripartire per cercare appunto di far bene. Una stagione e quella passata davvero molto particolare, con i giocatori costretti dall'emergenza coronavirus a sospendere ogni tipo di attività. C'è stata poi una parzale ripartenza degli allenamenti, ma il lavoro di campo, quello vero, è ancora lontano. Noi dobbiamo essere bravi al di là, tutti quanti parlano di sistemi di gioco, di giocatori e tutto, però noi dobbiamo essere bravi a capire il materiale che abbiamo in mano, perché praticamente da marzo che sono tutti fermi non è facile rimetterli in moto, dobbiamo essere bravi a caricare il giusto, perché il pericolo maggiore sono gli infortuni e poi penso che insomma trovare una condizione in tempo appunto, perché a parte che non sappiamo le date ancora del campionato o meno, però insomma arrivare nel migliore dei modi alle prime partite ufficiali. Grazie Boccalù. Grazie, grazie a voi. Ripartire sì, ma con il pubblico, come sostenuto dal vicepresidente Lorenzo Manzi, che sottolinea come con le dovute precauzioni si può trovare il modo di ridare la possibilità ai tifosi di poter di nuovo assistere alle partite. Io credo che si fosse aperta, come dire, interrotto un qualcosa che poi è stato un incompleto, un incompiuto e che questi due anni alla fine hanno vissuto quella retrocessione senza mai trovare un amore come quella che è stata con Mr. Favarin, ricordiamolo dopo 0 punti 2-7 partiti ci ha portato a una traversa dalla salvezza, quindi si continua quel ciclo lì che probabilmente non si era mai chiuso anche nella testa di noi dirigenti e quindi c'è un legame talmente forte che non si era mai interrotto in questi due anni, ci siamo sempre sentiti, confrontati nel rispetto dei reciproci ruoli e quindi ripartiamo con un allenatore che ci dà carattere sicuramente la domenica. Tra l'altro lui ha dichiarato anche poche settimane fa proprio l'amore per il Folloni a Gavorrano definendo un ambiente ottimo dove si è trovato bene, dove sarebbe tornato con gioia e così è stato. È stato un amore reciproco, ho partito come tutti i grandi amori con delle litigate per trovare i confini, dopodiché è stato un rapporto fantastico e aspettavamo il momento per ripartire perché nella testa di tutti non doveva andare via, non doveva andare in quel modo. A proposito di ripartenza, come ripartiremo in questo calcio con il Covid-19, porte chiuse, cosa pensi, che campionato ti aspetti? Sinceramente sono tutti dei punti interrogativi perché di mezz'ora fa l'ordinanza della regione che ridà l'autorizzazione a partire da stanotte a mezzanotte allo sport di contatto, quindi se si può giocare a calcetto credo stare a uno stadio anche a un posto sì o un posto no a vedere le partite non possa essere un problema. Aspettiamo un po' di chiarezza, intanto ripartiamo lunedì 13 con degli allenamenti per il settore giovanile che facciamo quasi a titolo gratuito perché il contributo di 5 euro c'è compresa mascherina e borraccia quindi ripartiamo con due allenamenti a settimana fino al 14. Penso che partiremo, ci daremo me data a fine settembre, inizio ottobre anche perché credo staremo tutti aspettando cosa succede più che altro dal livello delle autorizzazioni a parte dell'autorità. Come ha detto mio padre prima nella conferenza stampa le nostre categorie senza tifosi perdono completamente di significato è meglio dire va bene abbiamo scherzato quest'anno non si gioca, ripartiamo quando sarà possibile perché pochi o tanti che siano un gol va dedicato al tifoso. Leggere sul giornale per quanto il lavoro dei giornalisti sia fantastico e necessario per renderci tutti consapevoli perde il significato alla nostra attività. Sono d'accordo, grazie e complimenti per tutto. Grazie a voi. Il calcio non è solo 22 giocatori che corrono dietro a un pallone, è molto di più, è condivisione, è emozione, è gioia. È questo che speriamo al più presto di tornare a vivere. Sicuramente è stato un anno sfortunatissimo e quindi quest'anno con il suo ritorno certamente si potrà fare un campionato ad alto livello e Gavorano fra l'altro non è una società che fa le cose a mezzo e quindi sicuramente sarà un lavoro quest'anno per finire quello che di buono sicuramente aveva fatto nel 2018 e un allenatore esperto che sicuramente farà bene a tutto l'ambiente. L'ingegnere Manzi ha parlato delle problematiche, del nuovo campionato, senza pubblico, tutto ovviamente legato al Covid-19. Che idea si è fatto e cosa si aspetta dalla prossima stagione? Ma tutti speriamo che siamo alla fine di questo dramma. Anche perché effettivamente un calcio soprattutto diventantistico senza spettatori è poca cosa. Questo senz'altro, quindi lo sport ha bisogno dei tifosi, ha bisogno del pubblico, ha bisogno di tante cose positive che in questi mesi purtroppo non ci sono state. Ma io sono fiducioso perché si possa andare avanti in tutti i sensi. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi.